Ci troviamo al centro-better di Via Cannavello, sempre con il nostro amico Antonio Sollo. Antonio, quali sono le quote della giornata oggi al partito di Rivela Lempoli? Partita molto difficile quest'oggi. Le quote sono l'1 dell'Avellino a 2,85, l'X a 3, il 2 a 2,65. Partita molto complicata perché Lempoli è una delle pretendenti alla salita in Serie A. Infatti è quotato a 12 come vincente campionato, mentre l'Avellino sta facendo sotto perché è quotato a 20. Noi prevediamo una partita ricca di gol perché gli attacchi di Avellino e Lempoli sono molto prolifici e le difese però sono abbastanza perforabili. Noi prevediamo gol a 1,82, ma se si vuole fare una giocata in combinata che dà una quota migliore, c'è gol primo tempo e gol secondo tempo quota 16, che significa che entrambe le squadre, sia nel primo che nel secondo tempo, devono fare almeno un gol. I nostri giocatori stanno puntando sulla giocata gol più over, che è quotata a 2,45. Tu quale consigli? Allora, noi consigliamo gol più over e consigliamo il risultato esatto 3 a 2, che fa quota 41. Allora, noi consigliamo il risultato.